Io ho la tessera della Lega in tasca dal 91, quindi questo è il 33esimo anno di continuità e devo dire che è una storia affascinante e di straordinaria coerenza perché siamo nati nel nome della difesa dei territori, delle identità locali, dell'autonomia e del federalismo e proprio ieri è finalmente arrivato in aula l'approvazione dell'autonomia e la discussione sull'autonomia, quindi a differenza di altri che hanno cambiato nome, hanno cambiato simbolo, hanno cambiato obiettivi, certo nella vita poi in 40 anni cambia il mondo, quando siamo entrato in Lega non c'era lo strapotere dell'Unione Europea, non c'era la moneta unica, non c'era il tentativo di imporre un pensiero unico che è pericolosissimo, noi ci battiamo contro quello che rischia di provocare povertà e precarietà, quindi il lavoro, in primis oggi abbiamo fatto un consiglio dei ministri dove si è parlato di busta paga, si è parlato di semplificazione, io quando apro un cantiere sono orgoglioso non solo perché do un servizio per quella comunità, ma perché dietro ogni cantiere c'è la busta paga di quegli operai, di quegli ingegneri, di quegli architetti, di quegli elettricisti, quindi il lavoro è fondamentale, ovviamente poi però l'uomo non è solo lavoro, acquisto, necessità, bisogno, fatturato, sono anche valori, quindi è una storia di coerenza, ovviamente quando ho fatto la tessera non pensavo di diventare vicepresidente del consiglio, di fare il ministro, di rischiare la galera, di fare tante belle cose che ho fatto e quando quest'estate ho letto quelle pagine e pagine e pagine di astio, perché poi parte un articolo di giornale che diventa trasmissione televisiva, che diventa talk show e quindi purtroppo a certa stampa italiana poi si fa la sua realtà virtuale, quindi io ho voluto andare a conoscere questo mostro che da generale aveva osato pensare, combattere, scrivere, mettere nero su bianco delle idee, ho letto il libro, ne ho condiviso una gran parte, poi immagino che se Roberto leggerà controvento ci saranno tanti passaggi con cui si trova in continuità e ci saranno alcuni passaggi che invece dicono abbiamo una cultura diversa, su questo la vediamo in maniera diversa, io sarei terrorizzato da quelli che la pensano sempre comunque nella stessa maniera, quindi se combatto per la libertà io sono libero di non condividere qualche idea di Roberto, Roberto è libero di non condividere qualche idea della Lega, però ci siamo sentiti, ci siamo conosciuti, ci siamo visti senza raccontarlo ai giornalisti, poi ci siamo visti e rivisti a bere un caffè, a pranzo, abbiamo parlato di idee, abbiamo parlato di famiglia, abbiamo parlato di futuro, abbiamo parlato di libertà, abbiamo parlato di Europa e abbiamo deciso che visto che c'è in ballo, non il futuro mio, io non so di che anno sia tu, io sono del 68, quindi io del 73, diciamo che ne abbiamo viste, ne abbiamo fatte, ne abbiamo vinte, ne abbiamo perse, non dico che siamo al mezzo del cammin di nostra vita, però insomma alle spalle abbiamo un bello zainetto, tu hai due figlie, io ho due figli e siccome quello che facciamo e quello che faremo soprattutto a Bruxelles come a Roma è per garantire un futuro libero, sereno e pacifico ai nostri figli da un uomo di esperienza, di territorio che non ha avuto paura perché magari sai, uno fa il generale dell'esercito, non è abituato alle pagine di giornali, alle trasmissioni televisive, ad essere messo all'indice, ci siamo trovati in sintonia culturalmente e anche umanamente e quindi non vedo l'ora che arrivi domenica 9 giugno perché secondo me gli italiani riserveranno con una grande sorpresa al voto per l'Europa che vogliamo.